Neddy Merrill non è più giovane, ma ancora tonico e fisicamente prestante. «Probabilmente ha toccato la soglia dei cinquanta ormai da qualche anno, non ci è dato saperlo. Ma Civer suggerisce che se dovessimo paragonarlo alla porzione di una giornata d'estate sarebbe quello dove sono contenute le ultime luci prima del tramonto. Comunque di Ned Merrill non sappiamo davvero nulla, lo immaginiamo consumare la propria esistenza in una qualche pacciosa cittadina americana di provincia, tra barbecue organizzati in backyard dagli steccati verniciati di fresco e cocktail party tenuti rigorosamente a bordo piscina. Ed è proprio in una situazione di questo tipo che facciamo irruzione nella sua esistenza. È una bellissima domenica mattina d'estate e Ned si trova, insieme a sua moglie Lucinda, ospite nella villa dei Westeresi. Il caldo e opprimente, gli ospiti sono ancora avvolti dai fumi dell'alcol consumato la sera precedente. La discussione averte su questo è poco altro, la situazione langue. Ed è a questo punto che in Ned si compie la metamorfosi. Qualcosa preme dentro di lui quel bottone sinaptico che emisce deflagrazione delle migliori epifanie personali. E spogliati non solo metaforicamente i panni del marito e del padre, veste quelli del nuotatore. La sua idea è folle e geniale al tempo stesso. Attraversare a nuoto la catena di piscine che dalla casa dei Westeresi conduce alla sua, pensandosi creatore ed esploratore allo stesso tempo di un percorso che esiste soltanto nella sua immaginazione. Con l'occhio da provetto cartografo ha già inanellato i 15 giardini che dovrà violare, le 15 recinzioni da scavalcare, le 15 piscine che dovrà nuotare lasciandosi condurre attraverso un trip idrografico a cui ha scelto di dare il nome di Lusinda, sua moglie. Ma l'iniziale proterbia di questo uomo di mezz'età che cerca di ottemperare con una determinazione zen al proprio proposito viene ben presto minacciata. A metà impresa i piani narrativi si sdoppiano ma si intersecano costantemente. L'ambiente circostante assume contorni ostili, il cielo si copre di nubi minacciose, il rumbo di un tuono e il presagio di un imminente temporale, l'aria ora è fredda. La giornata estiva sta lasciando il posto ad un autunno che non è soltanto meteorologico ma dell'essere. Le bracciate di Ned si fanno stanche, ben presto veniamo a sapere che il protagonista non è esattamente amato come credeva di essere, che i conoscenti che incontro in questo suo folle pellegrinare di casa in casa gli recriminano cose, instillano dubbi, insinuano maldicenze. Nel frattempo il temporale è scoppiato, violento e impietoso. Il paesaggio è mutato radicalmente. Ned sente crescere dentro di sé l'amarezza, una sorta di indicibile paura sembra farsi largo dove in precedenza avevano albergato soltanto fiducia e un sano ottimismo americano. Il presagio di monta e si fa carne quando qualcosa interrompe la sua marcia. Penetrando nella proprietà dei welcher si accorge che la piscina è stata prosciugata. Erbacce incuria sono dappertutto. Un cartello, in vendita, inchiodato un albero lo atterrisce. Questo imprevisto lo costringe ad attraversare a piedi l'autostrada. Un'autostrada che se volessimo tenere insieme i piani di lettura di qui sopra non sarebbe difficile individuare come un guada esistenziale. Seminudo, scalzo, tra cartacce, lattina di birre vuote, da auto che sfrecciano, non curanti della sua tragica figura, l'uomo chiede soltanto di poter attraversare e superare questa impasse. Il tratteggio di Ned che l'autore ci consegna non è mai invasivo. Non si premura di farci penetrare negli interstizi più reconditi della sua psiche, ma risulta chiaro che la dissociazione che sta vivendo è il prezzo da pagare per chi non si accontenta di farsi cullare dall'artificiosità della provincia americana. Che questo è il dazio che si pretende dagli irregolari, da chi non resta in superficie, ma chiede di penetrare freudianamente nell'esistenza altrui. Il meccanismo di rimozione sul quale Ned aveva innervato la propria esistenza viene spezzato via impietosamente. Qualcuno sussura alle sue spalle che gli deve dei soldi, altri lo compiangono per le recenti disgrazie. La signora Halloran si dichiara affranta per ciò che è accaduto alle sue povere bambine, ma le bambine sono a casa e Ned non sa di cosa stiano parlando costoro. Le acque che ora lo accolgono sono gelide, putride. Attraversa gli ultimi campi che ormai il cielo è pece. Il freddo punge la pelle è ormai flaccida, si sente stanco, infreddolito, prossimo a qualcosa di non benaugurante. La casa si staglia l'orizzonte, l'usin delle bambine dovrebbero essere tornate, ma le imposte sono sbarrate, le luci spente. Si avvicina lo steccato con il fiato rotto dalla corsa e dall'angoscia. Non un rumore, nessun segno di vita sembra provenire da quel luogo. La grondaglia è pericolante, il silenzio è assordante. Si avvicina la porta è sprangata, la casa è disabitata.